Ciao a tutti, benvenuti a This Is My Architecture. Io sono Giorgio e oggi sono qui con Dario, Chief Technology Officer di Tron. Benvenuto Dario. Grazie. Ci racconti un po' chi è, che cosa fa Tron? Tron è una soluzione software as a service di digital asset management. Ci occupiamo della gestione quindi di qualsiasi tipo di asset digitale come audio, video, documenti, immagini e ci occupiamo dell'intero ciclo di vita dei contenuti, dalla loro ideazione fino alla distribuzione dell'utente finale. Applichiamo intelligenza artificiale per ridurre al minimo l'effort dei nostri clienti nella gestione di questi complessi processi. Ok, ci racconti l'architettura di cui andremo a discutere oggi? Quando gli utenti utilizzano i contenuti di Tron vengono raccolti dati, dati che vengono incrociati proprio con l'analisi di quelle che sono le informazioni estratte dagli artificial intelligence sui contenuti e l'architettura che vedremo oggi è l'architettura che gestisce queste informazioni. Quindi che cosa succede quando appunto un utente effettua la visualizzazione di un contenuto? I contenuti vengono messi a disposizione degli utenti tramite un'infrastruttura scalabile, elastica, quindi le richieste arrivano ad un Elastic Load Balancer che in autoscaling dirotta le richieste su quelle che sono le nostre applicazioni ospitate su container di Elastic Container Service. Salviamo tramite CloudWatch quelle che sono le metriche di salute del cluster e con l'utilizzo di una Lambda Function comandiamo lo scaling del cluster per garantire sempre le massime performance. Al tempo stesso quando i contenuti vengono visualizzati raccogliamo anche delle informazioni su Kinesis. Ok, quindi Kinesis per il real time, che tipo di Kinesis state utilizzando? State usando Firewall, state usando Data Stream? Utilizziamo Kinesis Streams e raccogliamo le informazioni relative agli eventi di visualizzazione dei contenuti, progress dei video e così via. Queste informazioni tramite Kinesis vengono quindi raccolte in tempo reale e salvate su S3 oppure arricchite in tempo reale con una Lambda Function e messe a disposizione degli utenti con un cluster di Elasticsearch. Vedo appunto che c'è nella vostra architettura EMR. Che tipo di analytics effetto EMR? Abbiamo un requisito un po' particolare. I nostri clienti possono riorganizzare quelle che sono le informazioni che vogliono gestire, quindi la tassonamia dei concetti. Quando questo accade noi abbiamo la necessità di riprocessare l'intero storico degli analytics. Ecco quindi che le informazioni che vengono salvate su S3 in modo batch vengono processate giornalmente da Elastic MapReduce che elabora quindi e genera quello che è il nuovo cluster di informazioni che vengono messe a disposizione degli utenti. Questa è una Lambda Architecture che arricchisce in tempo reale le informazioni e in modo batch fornisce sempre il modello dati aggiornato. Ok quindi mi spieghi un po' chi sono poi i consumer di Elasticsearch e che va a fruire del servizio messo a disposizione da Elasticsearch. Elasticsearch alimenta diversi servizi. In particolar modo per gli utenti finali ci sono servizi real time come la raccomandazione, quindi il consiglio di quello che è il miglior contenuto per l'utente da vedere nel suo percorso di navigazione. Ma al tempo stesso Elasticsearch alimenta anche le tradizionali dashboard di analytics oppure il motore di analisi comportamentale, quindi quella componente che analizza il comportamento della popolazione degli utenti per estrarre informazioni utili per il business. Ottimo. E durante la realizzazione di questa architettura avete trovato delle criticità particolari? È stata un'architettura per noi complessa di realizzare in quanto ci sono componenti real time, componenti batch e in particolar modo testare il corretto comportamento, il corretto funzionamento di tutte le componenti sicuramente è stata una sfida. Nel momento in cui abbiamo adottato data pipeline, abbiamo capito al meglio come combinare questi elementi architetturali di AWS, in realtà è stato abbastanza semplice arrivare a questo risultato, quindi siamo molto soddisfatti. E quali sono i principali benefici che avete ottenuto nell'utilizzo di questa architettura? Sicuramente il time to market è un beneficio molto importante. Abbiamo realizzato questa intera architettura in circa sette giorni uomo, quindi questo ci ha permesso di essere molto efficienti nell'erogazione di questo servizio. Al tempo stesso siamo in grado di garantire una grande scalabilità e una grande affidabilità di accesso a queste informazioni ai nostri utenti, quindi siamo in grado di dare un ottimo servizio all'utente finale. Grazie mille Dario, fantastico. Grazie a tutti per essere stati con noi a This is my architecture.